Anche la Corea del Nord, uno dei paesi al mondo più impenetrabili, approda su Google Maps il sistema di mappe del celebre motore di ricerca. Ma come ci si è arrivati? Ebbene, i dati sono stati compilati attraverso MapMaker, strumento che consente agli utenti comuni di contribuire al sistema, fornendo informazioni ricavate dalle immagini satellitari e dalla propria conoscenza del territorio. E così nel caso della Nord Corea sono state le immagini satellitari la principale fonte di informazioni, poiché nel paese l'accesso a Google è vietato ai cittadini. Inoltre un gran numero di persone della vicina Corea del Sud hanno offerto il proprio contributo per compilare le mappe del Nord.